buonasera where you from italian perfetto no perché ormai sei non ho il tempo di Paolo Mele oh Paolo lui le ha fatte quasi tutti tutte vero facendo anche delle buone posizioni di solito sì dai di solito perché l'anno scorso è stato un po' sfortunato sì una rottura mi ha costretto a ritire e infatti mi ricordo di averlo visto poi con quell'ora di ritardo che viene data che si ritira va bene Paolo è un piacere averti qui con noi grazie ciao Paolo Mele grazie a tutti grazie a tutti si continua zio Mario Racing e allora arrivano Murtas quindi qua insomma qualche anno c'è no di rally sì qualcuno c'è Tandalò quante invece? Tandalò quattro con questa lo so quindi buona parte fatta per questo 2022 cosa ci si attende? l'importante è divertirci e far divertire anche il pubblico perfetto noi prendiamo nota e ci mancherebbe altre grazie grazie Murtas Valentino grazie a tutti grazie a tutti ah va bene allora dopo gliela rifacciamo eh prego Guiso e Mulas allora una battuta al volo dai come equipaggio interamente al femminile quindi facciamogli un doppio applauso ragazzi eh come siete pronte? prontissime non vedete l'ora di arrivare lì e fare quei cinque chilometri ben cinque addirittura magari sei volte sì esatto è una gara bellissima dai va bene vi lasciamo andare grazie allora attenzione che devo stare attento che la pedana poi non è così larghissima grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.